Sono passati 40 anni da un evento eccezionale, era il 12 agosto 1984, Papa Waitila viene a Fano, una cosa inaudita per l'epoca, nessuno si aspettava una cosa del genere. Ebbene l'amministrazione comunale vuole rievocare quel grande evento, come interviene l'amministrazione comunale? Sì, vogliamo ricordare un grande evento per la città di Fano che è ancora vivo nella memoria di chi ha partecipato in quella giornata 40 anni fa, chi l'ha organizzata, chi è stato protagonista e chi l'ha potuto anche solo ammirare. Ringrazio Luciano Cecchini e Marco Ferri che hanno curato questa giornata, da cui è partito tutto, è partito un programma che va dalle 6 e mezza della mattina con la Santa Messa fino alla sera, nel luogo in cui il Papa è contro i pescatori, ovvero davanti all'anfiteatro Rastat. Luciano, si comincia alle 6 e mezza del mattino? Sì, abbiamo pensato appunto di dividere la giornata del 12 agosto in tre momenti importanti. Uno che ripercorre appunto alle 6 e mezza del mattino, Vescovo e altri sacerdoti con celebrazione solenne per ricordare appunto la Santa Messa di Papa Voitila, ma soprattutto visto che è santo, celebreremo in suo ricordo questa celebrazione del mattino e aprirà la giornata. Sempre anfiteatro Rastat, lo chiamiamo così, ex Rastat, verrà appunto allestita una platea di circa 400 sedie e quindi sperando di avere posto tutti, venite tranquilli. La celebrazione appunto sarà accompagnata dal coro del nostro Duomo diretto dal maestro Valdelli e poi durante la giornata un altro momento, pranzo e cena grazie alla collaborazione del pesce azzurro con un menù speciale chiamato menù del Papa a 10 euro tutto compreso e questo vuol ricordare la cena di Papa Voitila che appunto fece con la marineria con quasi oltre mille penso persone. Alla sera abbiamo pensato alle nove e mezza sempre all'anfiteatro Rastat in un grande maxeschermo con una colonna sonora bellissima, chi non conosce Patrizia Orciani, soprano nostra concittadina, ci farà ascoltare dei brani, delle arie che faranno d'accompagnamento ai filmati e alle foto anche inedite di appunto dell'evento Voitila Fano. Il racconto abbiamo contattato il mitico Carlino e sono contento che l'assessorato mi abbia incaricato per organizzare questa giornata e diciamo ce l'ho messa tutta, sperando di vedervi in particolar modo invito chi non c'era perché giovane attraverso le fotografie, attraverso i racconti vedere e capire quel che è successo nel 12 agosto del 1984 a Fano.